cos'è sta gara con la mustang scatenati che non ha mustang al molo che cazzo vuol dire no non mi dire così però no quelle gare di merda no speravo di non doverle più incontrare queste gare fanno cagare no non ce la farò mai e poi mai ma si ciao no ce l'ho fatta si cazzo si allora sicuramente c'è stato un piccolo problema e ora vi spiego qual è il piccolo problema l'iphone mi fa da telecomando per il game capture hd cosa succede io schiacciato ma il touch non se n'è accorto e ora che ho finito la gara mi son girato ho visto che non stavo registrando adesso vedo non so se la rifaccio tutta da capo non lo so ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un'altra puntata di horizon 2 come avete visto nell'intro della pre intro dell'intro della pre intro ho fatto una stronzata ma non è stata realmente colpa mia molti di voi diranno adesso perché non utilizzi il suo fottuto telecomando che funziona tanto bene avete ragione però il telecomando non mi dà il timer non mi dice da quanto tempo sto registrando quindi per me è un disagio perché a me piace sapere da quanto è che sto registrando perché se poi supero un'ora non va tanto bene allora adesso buh non lo so proviamo a fare una cosa che non dovrei fare ma proviamo e vediamo che cazzo succede lo so che me ne pento e lo so lo so che pale dovrei fare me ne pentirò amaramente cazzo salto ho detto che facevo una stronzata io l'ho detto quando una di queste gare si fa bene al primo colpo è meglio lasciar perdere porca cazzo che salto mamma mia si no no ok non è per niente facile fin qua ci siamo saltino oh mamma mia potevo farmi i cazzi miei l'avevo già finito perché mi sono andato di nuovo a rompere le palle così potevo accontentarmi ah boh finito basta non lo rifarò mai più una cosa del genere se la finisco e non me lo registro non me ne frega un cazzo prendo solo un po' di punti qua ne sono ne sono i punti no 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 eh cosa è che accadono a me e basta sta macchina va più veloce in retro che la mia in avanti però vabbè sii rotto vaffanculo secondo tentativo dove devo andare adesso non mi è ben chiara la destinazione ah le ultime due gare facciamo prima questa ok stai pronto che si parte ah qui è bella stretta eh la vedo bella dura qua scusa spallina scusa no volevo farti spallina non hai voluto questa è la seconda volta eh che non riesco anche in un'altra gara con altre auto avevo avuto dei problemi inimmaginabili per far spalline qua mamma mia che strade strette eh l'ho detto che sarebbe stata una sfida strana no sto facendo cagare ma grosso qui eh beh curva power eh non posso dire altro e dai no uh poi di la in pratica sto driftando tutta la partita e dai eh no non era qua porca troppo scusi pago io i danni si come cazzo beh però il bello della difficoltà aumentata del gioco è proprio questo che sono un po' più difficili ed è una cosa più bella se no averli sempre dietro che gusto c'è cioè vabbè ho capito vincere è facile però ho dovuto rifare la gara perché prima me l'hanno date di santa ragione e anche stavolta sono sempre lì eh non è che si stanno schiodando questa è una cosa veramente ottima adoro le gare così purtroppo la mia più di così non va cazzo cazzo oh eh la mia non è tanto per l'allungo ci stai facendo l'abitudine e giomma questa l'ho portata a casa con il sudore eh altra gara questa è l'ultima poi con questa macchina non avremmo più niente a che fare andiamo stoi pronto permesso signori però io una foto ve la faccio va qualcuno l'avrò beccato no? minchia si 80 auto unico e fotografate 18.000 ottimo direi ah più altre che ne ho beccate eh perfetto eccoci dai eh eh sta macchina qua va ancora ancora poi negli allunghi un po' mi fa disperare basta che strona che mi ha dato mamma mia non so chi tu sia ma ti troverò e ti sc***o la mamma no scusa volevo dire no non so chi sei quindi non posso dirlo no ragazzi ho dovuto censurare una parte che ho detto la parolaccia incredibile a un bot e non vorrei che magari qualcuno che si vedrà in questo video dice ma come mi hai detto queste cose zozze è meglio che non lo dico ho dovuto autocensurarmi ah mamma mia mi hanno proprio da dire le parolacce quando mi danno ste trone ovviamente io non ce l'avevo con la persona eh in sé io ce l'avevo con il bot la persona non mi ha fatto nulla eh ah mamma mia ho detto che avrei fatto cose sconce con la sua mamma ma non non la pensavo sta cosa purtroppo è il momento di rabbia bene dai continuiamo questa gara e non facciamo il deficiente ecco per esempio no l'ho appena detto però io quando vedo sti cartelloni pubblicitari è più forte di me viene uno dietro che mi sta per mordere il sedere dai e tre giri l'ultimo giro è questo minchia mi sta proprio attaccato eh e io drifto perché è tanto tempo da perdere devo stare molto attento che qua sull'allungo poi finale mi smerdano eh oh dai e adesso prendo più giri che posso dai allungo finale dai e minchia ce l'ho dietro eh ciao è morto è dissolto nell'aria questa volta così si fa come minchia altri quattordici ah ne ho ancora quattordici va bene ricordo che la macchina è originale eh tra virgolette bene gente qui a Sisteron abbiamo finito quando volete tornate al centro gare e passiamo alla prossima fase di questo grand tour siiii dai nuovo livello dai dammi una macchina bella con tanti soldi macchina bella con tanti soldi dai 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 vaffanculo macchina bella tanti soldi e dai che ti costa dai ti compro un panino nooo non l'ho corrotta ancora va bene ehm ti compro non lo so un joypad bianco e rosa va bene no siiii che bello si posso usare il gto mi sento un po' un magnum pi si 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 voglio questo bellissimo la prossima fase del grand tour ci porterà a mortellino lungo il tragitto troverete una gran folla che non aspetta altro che applaudirvi si tra 100 metri girare a destra dov'è la folla che mi vuole applaudire e dire le cose sconcissime sono dietro e poi ti superò dai quanto va sta macchina su sei un ferrari alla fine dai e eh via giucchia 268 insomma eh cazzo ho capito vai più di me e ho la macchina originale così non vale eh mi sa che si è inchiodata a 278 279 tra 400 metri girare a sinistra no non male che i freni sono buoni andiamocene eh qua è dura eh è una macchina vecchiotta uh dai 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 no vaffa culo voglio tornare avanti io no no ok mamma mia disastro quindi qua si grand tour verso montellino eh però se arrivo in fretta mi danno 10.500 scusa sto guardando un'altra cosa oh cazzo no dove va questo porca puttana va bene tenuta dai ah io qua tiro dritto che me ne frega a me eh ci mancherebbe no mamma mia cosa è successo non voglio sapere cosa è successo penso che farò tipo un replay dell'azione che non mi è ben chiara tra virgolette perché alla rotunda mamma mia no le palle no no le palle no non mi piace toccare le palle altrui ok dai mancano 7 minuti eh beh sti cazzi dai così si permesso cubano scusi devo passare ok gira a sinistra ooooo minchia velo male ehm non c'è stato nessun incidente come al solito ho fatto una guida perfetta e la macchina è nuova di pacca poi la gente dice che guido alla cazzo no non è vero questo è il retro supercar championship la categoria include leggende come la F50 la Diablo la Countach la McLaren F1 la minchia ma guardami ho già gli occhi lucidi e piangi scegli una gara e diamo inizio al campionato piangi sfogati fa bene alla salute va bene direi che per questo video è davvero tutto se vi è piaciuto pollice su e commento qua sotto e alla prossima ciao uomini nudi ciao